E occupandoci di discriminazioni e quindi della attività antidiscriminatoria messa in campo dal consigliere di opportunità emerge un'altra figura di discriminazione, quella dell'ageismo, come dice il termine age, ossia age, età, ismo, eccesso. E quindi queste forme di discriminazioni nei confronti degli anziani. Avvocato Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, una discriminazione più che mai attuale, quella nei confronti dei nostri nonni, per così dire. E questa è una forma di discriminazione subdola, sottile, che colpisce anche se vogliamo, perché è riprovevole, forse più delle altre, anche se ritengo che non si possa fare una categoria delle discriminazioni, non c'è quella minore o quella maggiore. Ma va a colpire una categoria di persone deboli, come possono essere le persone avanti con l'età. Quindi ho voluto porre l'attenzione, proprio in un recente convegno, dell'ageismo, che è la discriminazione subita per età. La nostra Costituzione vieta qualunque forma discriminatoria per età, richiamando la Convenzione dei diritti dell'uomo a livello sovranazionale. Ora, l'ageismo è una forma di discriminazione molto sottile, guarda Luigi, lo si trova nelle mass media, nella pubblicità e soprattutto in un campo, che è quello della sanità. Spesso l'anziano viene discriminato, non si spendono abbastanza fondi per la ricerca, per migliorare lo stato di salute, le condizioni di vita e la qualità della vita delle persone anziane. E anche da parte del personale, delle OS o quanto riguarda anche il personale medico, non si segue, non si ha sempre una certa sensibilità nel rivolgersi al paziente anziano. Noi abbiamo parlato, perché di questo credo che se ne parli molto poco, ma è foriera questa discriminazione di grande sofferenza per persone, lo ripeto, che sono deboli e che dovrebbero invece vedere l'attenzione di tutti gli enti istituzionali proprio rivolti nei loro confronti.